Ragazzi, siamo sul surreale, ma sono io che sono fuori o questi scienziati? Appello degli scienziati ai media, parlate del clima che cambia, del clima cambiato. Come se non parlassero 24 ore su 24 ore, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? E questa è la prima pagina, la news flash dell'Ansa, un appello degli scienziati ai media, parlate del clima cambiato.